Parte oggi al Mar Hotel di Mazzara del Vallo il progetto Atena, la presentazione di un progetto attuato dal Rotary Club di Mazzara del Vallo, Salemi e Castellammare del Golfo che qui al Mar Hotel di Mazzara del Vallo inizia con lo screening senologico a cura della dottoressa Simonetta Monti dell'Istituto Oncologico Europeo. Dottoressa Monti, di che cosa si tratta questo screening e come avviene? Allora intanto io voglio complimentarmi con le organizzatrici di questo evento, la dottoressa Venezia, la dottoressa Licata, la dottoressa anche De Blasi perché è un'iniziativa importantissima perché se è vero che l'incidenza del tumore mammario è aumentata negli ultimi anni è anche vero che è aumentata la guaribilità guaribilità che si gioca sulla prevenzione, sulla tempestività della diagnosi, la tempestività della diagnosi è una conseguenza di una buona prevenzione per cui che il Rotary abbia preso questa iniziativa e quindi di sottoporre donne sane comunque a un progetto di screening e di visita senologica la ritengo una grandissima iniziativa di forte impatto sociale. Le visite sono avvenute in questo camper che abbiamo alle nostre spalle e con quali macchinari? Allora innanzitutto si è cominciati con un esame clinico, con una visita clinica, naturalmente preceduta da un'anamnesi della paziente per avere un quadro completo e quindi conoscere al meglio la storia familiare e clinica della paziente in caso di, se è necessario, un approfondimento abbiamo a disposizione un apparecchio ecografico per poter eseguire un'ecografia in alternativa se naturalmente è necessario suggerire esami di approfondimento questi vengono poi suggeriti alla donna, alla paziente che si sottopone alla visita senologica. Cosa vuole suggerire alle donne all'ascolto e a tutti coloro che possono usufruire di questo servizio? Sicuramente di approfittarne, è una grandissima iniziativa e soprattutto, questa è una raccomandazione che io faccio a tutte le donne di sottoporsi indipendentemente dalla presenza di una sintomatologia clinica ma a esami sistematici, mammografici, ecografici, a visite cliniche periodicamente proprio per poter intercettare sul nascere eventuali patologie che appunto, mentre in passato potevano mietere un gran numero di vittime attualmente sono guaribili proprio se diagnosticate in tempo ed anche perché comunque sono aumentati gli strumenti per poter combattere questo tipo di patologia. Si sono affinate le indagini appunto strumentali ma soprattutto anche le terapie. Doriana Licata, presidente del Rotary Club Salemi, da cosa nasce l'idea di questo progetto che punta a dare sempre più l'idea di un Rotary di servizio e dove possono recarsi coloro che sono interessati ad uno screening gratuito? Bene, intanto vi ringrazio per essere stati presenti e per averci dato la possibilità di veicolare questo messaggio. Il progetto Atena che è dedicato alla dea della saggezza perché saggio è fare prevenzione nasce dalla collaborazione di tre presidenti io come presidente del Rotary Salemi, la presidente Ina Venezia del club di Mazzara e la presidente Anna Maria De Blasi del club di Castellammare del Golfo. Insieme abbiamo stilato un progetto articolato e complesso che tiene conto non solo dello screening mammografico e senologico che avviene oggi a Mazzara del Vallo e che avverrà il 23 mattina alle ore 9 a Salemi in piazza Libertà ed il 23 pomeriggio dalle ore 15 alle ore 19 invece al porto di Castellammare del Golfo. Ma tiene conto di tantissimi altri argomenti quindi la bellezza di questo progetto è che ha un'erma bifronte. Se da un lato c'è tutta una campagna di sensibilizzazione, di informazione, di formazione, dall'altro c'è uno screening vero e proprio che viene fatto oggi, ripeto, per quanto riguarda la senologia da parte di una professionista di altissimo livello, la dottoressa Simonetta Monti, aiuto di Veronesi e poi di tantissimi altri professionisti come il professore McDonald che viene dall'Istituto Galeazzi di Milano per l'osservazione posturale dei bambini, Sebastiano Bonventre per la prevenzione del carcinoma del colon, Giacomo Ferrato per la prevenzione e la sigillatura dei denti in età scolare, insomma un progetto che inizia oggi e che finisce, finirà il 18 maggio a Castellammare del Golfo dove il nostro governatore Francesco Milazzo chiuderà il progetto Atena e di cui noi andiamo orgogliose perché è un progetto di prevenzione e noi siamo fermamente convinte che la prevenzione ci salva la vita ed è giusto veicolare questo messaggio e noi che abbiamo voluto improntare il nostro anno rotariano pensando agli svantaggiati, a chi è stato meno fortunato di noi non potevamo non rivolgere questo progetto a chi una visita specialistica di questo livello non poteva pagarsela e quindi abbiamo coinvolto tutti, rotariani e non rotariani, per fare in modo che questo progetto venisse esplicato nel migliore modo possibile. Grazie. Siamo con Ina Venezia del Rotary Club di Mazzara del Vallo, oggi una giornata importante verso chi ne vuole soffrire per la tutela della loro salute. Questo progetto nasce da un'idea intanto che ha lanciato il nostro governatore Francesco Milazzo che ha dato degli input per fare un lavoro di prevenzione e divulcazione sul territorio. Noi abbiamo preso questo spunto e da lì è cominciato tutto un percorso di costruzione di un progetto sanitario, di prevenzione sanitaria e non itinerante. E le presidenti con cui abbiamo trovato questa sinergia, ognuno di noi, con la dottoressa Licata, con Anna Maria De Blasi, ognuno di noi ha dato il suo contributo, le sue idee e insieme abbiamo costruito questo progetto di prevenzione a 360 gradi. Un progetto che ci permetteva di dare supporto al territorio laddove spesso le ufficialità del territorio sono assenti o carenti. Un progetto che fosse non soltanto di parole ma che fosse attivo in un lavoro di screening che permettesse a delle persone che non potessero permetterlo delle visite o una prevenzione vera e propria nel caso della sigillatura dei denti perché vorrei precisare che sigillare i denti in un bambino a 9 anni garantisce una riduzione del 90% della carie nell'adulto. Spesso le famiglie di questi tempi non possono permetterselo ma è un lavoro di prevenzione reale oppure formare gli insegnanti a osservare gli studenti per determinate atteggiamenti non consoni che possono essere campanello di allarme per atteggiamenti patologici posturali oppure l'altro progetto di prevenzione alle scuole sull'alcol e sull'uso delle droghe per quanto riguarda la sicurezza stradale e anche per quanto riguarda il futuro dei giovani. Tutto questo assieme a una prevenzione sull'obesità nell'adulto e nel bambino assieme alla divulgazione di una corretta alimentazione e di un corretto uso del nostro ambiente terra da proteggere tutto questo assieme ha creato un progetto, il progetto Atena che è un mondo di vero Rotary che è lo slogan che noi abbiamo creato per questo grosso progetto di prevenzione un progetto che ci ha coinvolto in prima persona ma che è stato supportato da grandi professionisti professori universitari, medici, dirigenti scolastici che hanno accolto con grande entusiasmo questo grosso progetto, ripeto ancora il termine e che hanno avuto la capacità e la voglia di coinvolgersi in prima persona tutto gratuitamente quindi attraverso il Rotary un lavoro di grande divulgazione Abbiamo con noi la signora Anna Franca che è la prima delle pazienti allora signora come ha trovato questo screening? Ho trovato questa iniziativa prima di tutto molto veramente bella e soprattutto pensata perché la prevenzione è importantissima non solo per un discorso di sapere ma anche di curare il Rotary Club grazie a questo progetto di Atena ha fatto questa cosa e noi semplici donne di Mazzara in questo senso abbiamo soffrito in maniera gratuita a questo tipo di check up abbiamo appunto fatto uno screening, un'ecografia grazie anche alla dottoressa Simonetta Monti che è qui che appunto gestisce la cosa a livello medico con l'aiuto di altri appunto medici e ci stanno sottoponendo a degli screening appunto per insomma valutare se c'è una patologia o no io fondamentalmente a di là di tutto anche se ho una familiarità di primo grado con questo tipo di tra virgolette di malattia ringrazio vivamente tutti gli operatori del Rotary tutti coloro che fanno parte perché il Rotary è fondamentalmente aiuto, prevenzione e soprattutto formato da bellissime persone tra cui appunto la presidentessa Ina Venezia